Lo sport è una metafora della vita e la vita è come lo sport, perciò la psicologia dello sport è anche una psicologia che si occupa di come affrontare le difficoltà della vita. Questa disciplina studia gli aspetti psicofisiologici dello sport e serve non solo a raggiungere obiettivi specifici, ma cerca di stabilire delle relazioni significative fra la personalità dell'atleta e gli obiettivi in questione, puntando sulla preparazione mentale e sulle abilità che possono essere incrementate nello sportivo, vale a dire l'attenzione, la concentrazione, la motivazione, la gestione dello stress e dell'ansia da prestazione. Naturalmente lo psicologo non è un tecnico, quindi non dà consigli o strategie tattiche, ma si occupa di allenare le abilità mentali degli atleti, fra cui l'abilità di rilassarsi, la capacità di visualizzare immagini e quindi la capacità di porsi degli obiettivi. Il cosiddetto goal setting è appunto la formazione corretta degli obiettivi di prestazione e degli obiettivi di risultato. Per fare questo bisogna gestire le emozioni, bisogna allenare l'atleta alla visualizzazione del percorso e dei gesti motori adatti allo scopo e dunque migliorare la sua autostima, proporre strategie per potenziare la sua capacità di attenzione. Poi bisogna anche lavorare sul self-talk, cioè il dialogo interno, al fine di gestire l'aggressività per esempio. Lo psicologo dello sport interviene sul processo riabilitativo, a seguito ad esempio di un infortunio, per incoraggiare e motivare. Lo psicologo segue l'atleta nei passaggi di categoria favorisce il team spirit, ovvero la coesione di squadra. Dunque lo psicologo ha anche la funzione di analizzare la leadership di atleti e allenatori, di sviluppare le competenze relazionali dell'allenatore e sviluppare anche la sportività negli atleti, il cosiddetto fair play. Ecco che si evince da tutto questo come lo sport sia veramente una metafora della vita. In particolare il goal setting è un processo di pianificazioni di intenti per ottenere risultati specifici in un periodo di tempo specifico, proprio come accade nella vita di ognuno di noi. E questa tecnica suggerisce che gli obiettivi dovrebbero essere specifici, misurabili, difficili ma raggiungibili. E suggerisce anche di scriverli mettendo nero su bianco. Come accade nella vita è importante porsi obiettivi in termini positivi, focalizzandosi sui comportamenti che dovrebbero essere presenti piuttosto che sui comportamenti che dovrebbero essere assenti. Ogni obiettivo a lungo termine dovrebbe anche avere una serie di sotto obiettivi a breve termine che progrediscono pian piano aumentando il livello di difficoltà fino a quegli obiettivi che sono appunto più impegnativi. Il self talk, cioè il dialogo interno, si riferisce ai pensieri e alle parole che gli atleti dicono a se stessi, parlando con se stessi. La frase del dialogo interno è usata spesso per posare l'attenzione su una cosa in particolare, in modo da migliorare l'attenzione. Un esempio potrebbe essere il giocatore di golf che prima di tirare dice a se stesso colpo regolare, sono rilassato, il movimento va da sé, il colpo fila liscia senza intoppi. Ecco, l'efficacia delle frasi del dialogo interno dipende da come vengono interpretate dallo sportivo. L'abilità di influenzare l'inconscio con una frase positiva è una delle tecniche più efficaci per gli atleti. Questo perché, a differenza di ciò che si potrebbe pensare, lo sport non è soltanto un fatto fisico, ma c'è anche molta testa. E non a caso l'attività sportiva richiede costanza e impegno nell'allenamento. È un'attività che richiede volontà di tenere duro di fronte alla fatica e di fronte ai sacrifici. Una capacità di sopportazione della fatica e della concentrazione rispetto alla gara. Con lo sport l'atleta costruisce l'immagine che ha di sé, in relazione anche ai propri limiti, e riuscirà ad utilizzare le proprie risorse per mettere in campo una performance che riflette una immagine di sé come efficace e quindi competente e persona di valore. Questo lavoro avviene attraverso l'analisi degli aspetti di personalità e quindi dei pensieri e dei vissuti emotivi, quali potrebbero essere ad esempio anche quelli che ostacolano l'attività agonistica, e avviene anche attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche di training mentale. Molti studi mostrano come l'ansia possa essere nemica della prestazione sportiva e come possa influenzare negativamente i risultati. L'ansia è uno stato emotivo che prepara il corpo ad affrontare una minaccia, nonostante questa minaccia non sia reale, ma sia qualcosa di percepito soggettivamente. Durante lo stato di ansia avviene una massiccia attivazione del sistema nervoso simpatico, che provoca una serie di alterazioni fisiche e quindi biochimiche ed endocrine, le quali contribuiscono a loro volta ad una precoce esaurimento delle risorse fisiche e mentali dell'atleta. Allo stesso modo anche altre emozioni come la rabbia possono configurarsi nell'atleta come disfunzionali e quindi inficiare le sue prestazioni. A questo proposito è stato dimostrato che le tecniche utilizzate dalla psicologia dello sport permettono all'atleta di riconoscere le proprie modalità di pensiero abituali e le emozioni ad esse collegate per poi imparare a modificarle e a gestirle. Gli esercizi di training mentale uniti alle tecniche di rilassamento possono migliorare la performance rendendo possibile una maggiore concentrazione e il percepirsi come maggiormente efficaci, affrontando la sfida sportiva positivamente e con successo. Questo però non è soltanto un successo dello sport ma se colto nel suo significato più profondo è un successo che si può estendere in tutte le cose della vita. Bene mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo questo messaggio come funziona la consulenza e specificando il vostro nome cognome e i vostri orari preferiti. Poi potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video suddivisi nelle varie playlist. Mi trovate anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. In bocca al lupo.